Trovate ancora una volta qui su Valdegnevole News Oggi è venerdì, consueto allenamento casalingo con Lady Vicks e il nostro amico preparatore atletico Emanuele Prosperi Ciao ragazzi, eccoli qua! Buongiorno a tutti! Allora, che ci fate vedere? Oggi cosa facciamo? Un allenamento casalingo Perché anche problemi di schiena La classica signora ha problemi di schiena e dice Ma io non ho tempo e non mi posso allenare Due minuti e mezzo, tre, da dedicarsi, si rinforza la schiena Si allena, si diverte e sta bene E siamo a posto! Balla! 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 Eh, si gioca! Esatto, vieni la divizia, si appoggia sulla schiena perché così va in decompressione la schiena Non va a sovraccaricare e mantiene la cuba fisiologica Sì, sì Vai, dieci! Così Uno, piano, due, tre, ne fai dieci, fatti bene Facciamo sempre un lavoro al circuito perché così le donne non si annoiano Lavora al metabolismo Si va ad accelerare il nostro metabolismo Dopodiché chiaramente accelerando il metabolismo si dimagrisce Si diventa più forti E si fa la prova costume Si fa la prova costume Poi questo ci metterà Linda Ecco Linda la sorella Subito cosa facciamo? Che si fa? Che si fa? Con un'asta Mezzi squat piccoli e slancio frontale per le spalle Perché oggi tutti i problemi sono sulle schiena, sulle spalle delle donne che sono a casa Si, si Appoggia bene sul petto Mi raccomando Va giù Appoggia bene sul petto Appoggia bene sul petto E slancio Massimo Corciamento Massimo allungamento Per far lavorare in maniera totale i nostri muscoli In maniera funzionale Perché caro Furio Il corpo non è solo un segmento corporeo Ma dobbiamo vederlo nella sua funzionalità Segmento corporeo Sentite dove Ma Queste sono fatti Contrazione dell'addome Lavoro sulla schiena Sulla bassa schiena E sui lutei Per avere anche un'attività maggiore nella vostra schiena Un'attività maggiore protezione Certo Stop Vi prendete questo circuito 3-4 volte Poi vi raccomando Fate un allungamento muscolare Poi eventualmente lo ripetete Mi raccomando Seguiteci Nella mia pagina Oh E dicelo Seguiti Ok Dai Persa dal panca Vi aspetto per un check up Omaggio Per le donne Questo mese Il check up è omaggiato E' un gran ruffiano L'Edvix Grazie mille ragazzi Buon allenamento Sì E buona giornata a tutti Pensate al vostro benessere Bene Pensiamo al nostro benessere Grazie mille all'Edvix Emanuele Prosperi Seguiteci Su Guadagniavole News Youtube Twitter Facebook Bye bye